Sara Tommasi e Andrea Di Pre presto sposi a Las Vegas? Questo è ciò che sostengono i diretti interessati. La show Gila ha parlato della sua intenzione di sposare l'uomo attraverso un videomessaggio. Le sue parole sono state, ragazzi, oggi è il 19 marzo 2015 e sono le 21 minuto. È il presidente Sara Tommasi che vi parla. Mi sono fidanzata e presto mi sposerò a Las Vegas. Succederà a maggio con il mitico Andrea Di Pre, l'avvocato. Volevo comunicarvelo sui miei social ma purtroppo mi sono stati usurpati. In particolare Twitter che, anche se autenticato, non è gestito dalla mia persona. Fate qualcosa voi, vi prego. Di Pre Radio e oggi ha seguito un nuovo video in cui Sara Tommasi ha ribadito che le sue intenzioni sono serie. Gentili signori, è il 20 marzo 2015 e sono le 20-13 minuti esatti. Volevo dirvi che io mantengo i patti e mi sposerò a maggio con l'avvocato Andrea Di Pre. Sì, Andrea Di Pre sarà il mio futuro sposo. Così, la show Gila si è sciolta in tenerezze nei confronti del presunto fidanzato. Andrea Di Pre ti desidero, ti voglio, non vedo l'ora di vederti. Siamo lontani, ma non ti preoccupare, io rimango ad aspettarti e ci sposeremo presto a Las Vegas. Infine, ha spiegato che assisteranno insieme alla prossima partita del Parma perché lui ha intenzione di farle un regalo speciale. Inoltre, ci incontreremo lunedì per la gioia di tutti, perché saremo in tribuna d'onore nella partita del Parma. Perché Di Pre mi vuole regalare il Parma. Ciao! Quest'ultima clip è stata diffusa su Facebook da Andrea Di Pre che in un tripudio di cuoricini ha confermato. Ti compro il Parma FC. Chi se ne frega.